Costruita nel 1932 la chiesa di Cologna Spiaggia è dedicata a Sant'Antonio da Padova anche se il patrono della popolosa frazione di Roseto è San Gabriele della Dolorata che si festeggia nella penultima domenica di agosto. Non presentava il campanile che fu aggiunto successivamente agli inizi degli anni 80. Qualche intervento di manutenzione ma col passare degli anni il tetto ha iniziato a presentare i segni del tempo. Le infiltrazioni sono evidenti e inizia a staccarsi parte dell'intonaco. Doneri è stato nominato parroco da cinque mesi e ha ereditato una situazione difficile ha posto da subito il problema delle infiltrazioni agli organi competenti. Abbiamo dovuto già creare una piccola commissione per intervenire immediato anche perché la chiesa M è abbastanza piccola e nel frattempo mentre stiamo ancora lottando per avere una chiesa nuova stiamo cercando di tutte le possibilità, le possibilità politiche, le possibilità strutturali anche da un punto di vista delle leggi canoniche quindi stiamo valutando tutte le possibilità ma mentre non arriva concretamente la chiesa nuova ovviamente dobbiamo investire su questa qua. Infiltrazioni ma non solo, dal sopralluogo è emersa anche la presenza di Eternit quindi amianto che deve essere rimosso. Per tamponare le infiltrazioni in attesa di una soluzione definitiva qualcosa nel frattempo è stato fatto. È una situazione abbastanza delicata ovviamente non è una questione critica ancora è delicata ma abbiamo già fatto un piccolo interventino per evitare che ci piova ancora di più ma ci piova comunque. In qualche modo speriamo che nei prossimi mesi con tutta questa iniziativa e altre iniziative che sicuramente ci saranno riusciremo di un certo modo a risolvere la cosa. La comunità sta comunque rispondendo bene? Amico mio so questo proprio non ho dubbio è una bellissima comunità che risponde concretamente e per questo sono davvero molto felice e quindi ringrazio tutte queste iniziative è una bellissima parrocchia, tanta gente è una gioventù che partecipa, sono davvero contento. Ovviamente c'è ancora un bel po' di strada da fare ma ce la faremo concretamente. Il problema è stato portato anche all'attenzione del Comitato per i festeggiamenti e del Santo Patrono che quest'anno si è ricostituito la situazione del tetto preoccupa serve una grossa somma tra 40 e 50 mila euro. Ci sono delle rotture sul tetto abbastanza gravi la Chiesa ha bisogno del rifacimento totale del tetto che comporterebbe una grossa somma da spendere. Il Comitato inoltre loda l'iniziativa dell'Atletica Colonia Spiaggia che con la terza edizione della passeggiata colognese del 16 giugno ha deciso di devolvere l'incasso per il rifacimento del tetto. Facciamo un plauso all'Atletica di Colonia che si è prestata questa iniziativa è pure vero che noi ci dobbiamo impegnare a trovare fondi attraverso conoscenze, imprenditori della zona anche se sappiamo che le amministrazioni locali non ci potranno dare sicuramente un grosso aiuto.